Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Buongiorno dalla libreria Nuova Avventura, con questa canzone di quel geniaccio di Gaber che prendeva in giro la nascita del TV del dolore. Io vi parlo della piccola conformista di Ingrid Seymour, appena pubblicato dalla Sellerio, perché è la storia di una famiglia che ci fa ridere, nonostante sia una famiglia appunto da TV del dolore, perché non se ne salva uno, perché siamo negli anni 70 a Marsiglia, diciamolo, siamo negli anni della rivoluzione sociale, della rivoluzione libertaria, e ci sono questi due giovani, Patrick e Babette, che hanno una bambina. E la storia è raccontata dal punto di vista di Esther, la piccola conformista. Questo perché Patrick e Babette sono due frecchettoni libertari di sinistra, progressisti, rivoluzionari a loro modo, e per reazione Esther è una bambina di destra, che ama l'ordine, che ama il decoro, che ama la serietà, che ama le sicurezze borghesi. Ma, d'altra parte, non poteva non nascere così una bambina che cresce in un ambiente assurdo. Vi spiego perché. Oltre alle ginnastiche, i miei genitori condividevano la passione per l'esibizionismo domestico. Perciò vivevano nudi, guardavano la televisione nudi, mangiavano ostri che nudi, senza preoccuparsi del ridicolo né della bolletta del gas, perché avevamo il riscaldamento centralizzato. Tutti e due, inoltre, votavano a sinistra e militavano contro la pena di morte. La madre era quel che si dice un'anima bella. L'aspetto ne rispecchiava alla perfezione l'indole, l'aria da figlia dei fiori, gambe affusolate e capelli bionde cenere che scendevano fino alle natiche. Aveva un viso dolce e occhi color nocciola che brillavano ostinatamente. Va detto che la realtà sembrava aver poca presa su di lei. Riteneva che l'uomo fosse buono per natura e considerava il marito, bancario di professione, un poeta. Ecco, Esther cresce figlia di una figlia dei fiori e di un ebreo nevrotico, perché Patrick, il padre, è un ebreo nevrotico che si lamenta che, noi diremmo ossessivo compulsivo, quando fa delle liste di cose da fare, le ripete continuamente per ore, che cresce figlioli, Esther è anche un fratello minore di qualche anno, che diventa un pericolo pubblico che non si ferma mai, che morde, che casca, che si fa male. Ecco, il padre fa le pulizie in maniera nevrotica, controllando che tutte le cose sia a loro posto, poi fa queste liste che lui ripete come una litania, a lavare i denti della bambina, controllare lo scoperto, rimettere a posto i piatti, e così via. Esther non li sopporta. Esther detesta i genitori, e in questo è una rivoluzionaria come loro, solo che i genitori sono appunto questi frecchettoni degni figli degli anni settanta, Esther invece no. La mia indole razionaria inclina al mantenimento dell'ordine e alla permanenza delle idee, come dei principi, degli orari di uscita della scuola, delle minacce di divorzio, del gite biennale al parco divertimento, mal si adattava alle montagne russe emotive a cui Babette mi sottoponeva di riflesso. Per combattere il malessere diventai più categorica. Più mia madre cambiava opinione, più io mi aggrappavo a tutto ciò che sapevo essere vero. Sviluppai una passione morbosa per l'ortografia e la grammatica, arrivando a padroneggiare norme ed eccezioni che ome nessun altro. Amavo la E e la E. Mi entusiasmavo per i participi passati irregolari. Memorizzavo con trasporto l'elenco dei sostantivi che cambiano genere al plurale dei verbi che al congiuntivo imperfetto tirano fuori desinenze bizzarre. E poi questa bambina a un certo punto diventa anche cattolica. I genitori, una o ebreo, l'al non praticante, l'altra atea, si sdegnano e lei gli diceva questa casa è la casa del vietato vietare. E quindi la fanno diventare cattolica. E in fondo è appunto una rivoluzionaria in casa di rivoluzionari. E noi ridiamo tantissimo a vedere le disavventure domestiche di questa piccola bambina che effettivamente è quella più inquadrata della famiglia, visto che la mamma è svanita e il padre è un neurotico fatto, perso e finito, che cerca in qualche maniera di affermare la sua identità e di crescere in una famiglia dove non solo i genitori sono quello che sono e il fratello è una piccola peste che non sta mai ferma, perché poi ci sono i nonni che invece sono nostalgici dei bei tempi in cui c'era l'Algeria francese. I riferimenti politici ci sono, ma nulla di incomprensibile per un italiano. E noi ridiamo tanto, perché ci sono delle scene, il tentativo di cerimonia per rendere il fratellino di Esther ebreo, tutta la storia del vaso con la terra natia in cui si ride tantissimo. E poi si ride tantissimo vedendo Esther che si inventa qualsiasi cosa per andare contro i genitori. Si ride tanto, però c'è un sottofondo amaro, perché noi pensiamo a questa bambina che cresce in una famiglia che ora diremmo disfunzionale, in una famiglia in cui ci verrebbe voglia a noi di salvare la piccola Esther, anche perché la verità è che i miei genitori detestavano i preliminari. Di conseguenza, le scenate si scatenavano quasi per magia, come in un film d'azione già iniziato. Magari stavamo tranquillamente mangiando tutti e quattro in cucina, quando a un tratto la caraffa dell'acqua volava in frantumi, oppure ci ritrovavamo all'improvviso nel bel mezzo di una tempesta di sabbia perché Patrick e Babette avevano cominciato a picchiarsi sulla spiaggia, prendendosi a pugni, soprattutto in faccia, per essere certi di farsi male. I genitori di Esther sono male assortiti, va detto. E lei, in qualche maniera, tra la madre svanita e il padre nevrotico, parteggia per la madre perché le sembra un po' una ragazzina smarrita. E in questo non è sanno che la figlia di dieci anni voglia proteggere la propria madre. E dal momento che Esther è una ragazza seria, una bambina seria, non avendo la minima speranza di vedere Babette occuparsi sul serio delle pratiche di divorzio, mi diede la lettura integrale dei romanzi di Agatha Christie allo scopo di sbarazzarci dell'ingombrante presenza di Patrick. L'idea di commettere un parricidio non mi sorrideva più di tanto, ma non l'avevo scelta. Se nessuno della famiglia era disposto ad assumersi le proprie responsabilità toccava a me, che ero sempre stata la più pragmatica di tutti, prendere in mano la situazione. La storia fa ridere perché noi vediamo questa bambina di dieci anni che fa cose ben più mature della sua età e che invece quando è davanti ai problemi tipici della sua età, che è quella della preadolescenza, perché la storia va dai tre ai tredici anni di Babette, i genitori, Patrick, non possiamo farci affidamento, la mamma si comporta nella maniera sbagliata. Però bisogna dire che per La piccola conformista di Ingrid Seymann, pubblicato da Sellerio, la fascetta dice una cosa di cui tenere d'occhio, di cui tenere da conto. Una saga familiare divertente e amara che ha fatto innamorare i librai francesi, perché questo è un libro che fa ridere, però man mano che si va avanti e che si ride, si inizia a ridere un po' più amaramente e la storia evolve e io non vi dico altro, perché sappiate che La piccola conformista di Ingrid Seymann, pubblicato dalla Sellerio, inizia facendoci ridere, continua facendoci appassionare, cercando di capire come andrà avanti la vita della piccola Esther in questa famiglia assurda e poi le cose si avviano a un livello sempre più assurdo, ma anche amaro. E io vi lascio con tre motivi per leggere il libro. Il primo è che si ride. Io ve lo dico, si ride la circoncisione del fratellino, il vaso con la terra natia dell'Algeria francese, quando le visite che lei fa alle ricche famiglie borghesi fingendo di non essere la figlia di due persone della media borghesia di sinistra ci fanno ridere tantissimo. Il secondo motivo è perché è una storia di famiglia diversa dalle altre, perché è guardata, è vista, è letta dal punto di vista della bambina, che è una rivoluzionaria, ma non come ce l'aspetteremo, anzi, è una rivoluzionaria da destra, una rivoluzionaria la cui rivoluzione fa rispettare l'ortografia. Il terzo motivo per leggere questo libro non ve lo posso dire, perché questo libro, ve l'ho raccontato in questa maniera, quando voi lo leggerete lo potrete riraccontare in una maniera completamente diversa, perché questo è un libro che va letto fino in fondo e soltanto quando lo chiuderete, quando arriverete all'ultima pagina, allora questo libro potrà essere un libro che fa ridere con delle punte di amarezza, come ve l'ho raccontato io, o completamente un'altra cosa, ma per saperlo lo dovete leggere. Questo era appunto La piccola conformista di Ingrid Seymar, pubblicato da Sellerio, dalla libreria Nuova Avventura e Tutto, a presto, ciao!